Finalmente siamo in ripartenza, ripartiamo dopo due anni, due anni è qualcosa di fermo obbligatoria, stiamo per partire, abbiamo sudato per una giornata, è dire poco, ma è una settimana di lavoro che ci ha voluto per fare, abbiamo organizzato tutto nel migliore dei modi con la collaborazione di tutti coloro che ci hanno dato una mano, dei soci della Proloco che sono all'interno dello stand già a preparare, a fare tutto quello che servirà questa sera, noi speriamo di ripartire, ripartire come sempre, far rispettare, far diciamo così notare questa sagra di qualità che è questo Festival della Cipolla Rossa di Calabria giunto ormai alla nona edizione, grazie a tutti voi che interverrete, che siete intervenuti, ciao a tutti! Ciao! 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 Ciao!